Zigzag per 13 anni ha portato a Capalbio libri, letture, autori, scrittori. Da quest'anno aggiunge un progetto sulla musica, Zigzag Music. Abbiamo già fatto due performance, questo è un esperimento che chiamiamo laboratorio, tutto sul jazz, con Stefano Zenni, che è una garanzia. Capalbio Libri è iniziata con un progetto proprio con musica e parole. Abbiamo ospitato per anni i gruppi musicali che insieme al dibattito sul libro facevamo delle performance in Piazza Magenta. Adesso cerchiamo di portare a Capalbio con Zigzag Music musica di qualità, musica dal vivo e esperimenti come quello di What's A Wonderful Jazz con Stefano Zenni.